Va anche detto una cosa che questo gorgo è tutto mediatico, abbiamo fior di casi di altre persone che hanno fatto lo sciopro della fame, nessuno se le filate, sono morte in galera senza che i giornali facessero i titoloni. Che ancora per l'ennesima volta dobbiamo occuparci del caso Cospito, perché tutti i giornali sono praticamente dedicati a questa faccenda che sinceramente ti confesso caro Francesco mi ha anche un po' rotto le scatole, perché credo che ci siano delle cose più importanti e più interessanti e più serie, però quanto panno hanno trovato il Grimaldello per attaccare il governo, continuare a fargli fare una brutta figura, quindi avanti così, titolone di Repubblica in prima pagina del Mastro ha mentito, risposta dell'uomo della Stade, ci c'è anche chi se ne frega, perché insomma alla fine, diciamoci la verità, sarà stata scombinata, sarà stata fuori dalle righe, sarà stata eccessiva, tutto quello che volete, io non penso che i rappresentanti del PD trattino con la mafia, con i terroristi, dopodiché basta, ieri ha parlato il Ministro Nordio, ha detto che le carte rivelate in aula da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia non sono riservate, dopodiché, qual è il punto? Io continuo a esistere, qual è il punto? Se il problema è che un parlamentare ha detto cose che stavano in un'informativa così delicata, le ha dette in modo che la nazione sapesse e fosse informata su questo dibattito in corso sul 41bis, oppure il problema è che quello che sta al 41bis e anima tutto questo dibattito, parlava allegramente con i mafiosi, i quali lo sostenevano nella sua battaglia, secondo me è la seconda, però insomma Repubblica esiste, Del Mastro è mentito, sapete che Del Mastro è il conquilino di Donzelli, nonché il sottosegretario alla giustizia e gli avrebbe risposto lui in maniera molto dettagliata, facendogli, insomma, dandogli informazioni su queste informative del DAP, cioè della Polizia Penitenziaria, nati da osservazioni in carcere, nel carcere dove sta cospito, dice Repubblica, hai quelle carte che smentiscono il sottosegretario della giustizia, i documenti del DAP rivelati a Donzelli erano classificati, riservato e non divulgabile, critica Forza Italia, ma Melloni sollecita Nordi o blindare i due esponenti di Fratelli d'Italia. La procura generale di Torino dice no alla revoca del 41bis e anche questo è interessante perché la procura di Torino e anche l'antimafia, la procura di Torino ha detto no, diretta proprio molto chiaramente alla revoca del 41bis, la direzione antimafia invece ha detto sì, si può abbassare il livello di severità della pena, però anche il 41bis va bene, decida il Ministro, quindi non è che facciano le corse tutti, a voler liberare cospito e secondo me questo è passato un pochettino in secondo piano. Comunque la polemica prosegue, i giornali da sinistra attaccano, io credo che la storia sia finita qua, dal punto di vista della Fer Donzelli, vedremo che cosa sarà di cospito perché a questo punto il tema rimane, abbiamo parlato quattro giorni di questa vicenda, però il tema rimane lì, questo signore continua a fare lo sciopero della fame, io credo che a questo punto togliere il 41bis sia un segno di cedimento che questo governo assolutamente non vuole permettersi, peraltro ci sono anche da sinistra molte voci critiche su questo tema, io credo che fosse probabilmente un errore, sia stato probabilmente un errore mandarlo al 41bis da subito, cioè quando Marta Cartabia ha firmato le carte perché poi ha infilato lo Stato in un gorgo da cui è difficile uscire, va anche detto una cosa che questo gorgo è tutto mediatico, abbiamo fior di casi di altre persone che hanno fatto lo sciopero della fame, nessuno se le è filate, sono morte in galera senza che i giornali facciassi di titolo. Nel suo caso, ripeto che ci sono oggi, attualmente in questo momento, 32 persone, così dice polizia penitenziaria, il sciopero della fame, 32, ora non mi risulta che qualche giornale abbia parlato, non dico di tutti, di un altro solo di questi, per cui il problema è tutto mediatico, è tutta una pantomima mediatica e politica, nel frattempo però passano in secondo piano altre cose. E allora io due cosine vorrei citarle. Intanto per questa storia di cospito c'è un'altra cosa che io continuo a non capire, che riguarda la facoltà di lettere della Sapienza, dove la Sapienza è il posto dove, ricordateci, fu tutta la polemica per l'ingresso di Daniele Capezzone e di altri studenti che volevano tenerli fuori, li accusavano di fascismo, la Sapienza è il luogo dove i professori si schieravano contro il Papa, per non farlo parlare, adesso tranquillamente c'è una facoltà di lettere occupata, c'è la facoltà di lettere occupata in solidarietà con Cospito. Ieri hanno fatto lì dentro l'assemblea permanente degli anarchici e di vari altri movimenti su questa situazione. Sta bene a tutti, tutto sereno, tutto tranquillo che questi qui occupino per questa causa meravigliosa l'Università, la faccia della libertà di pensiero. Io continuo a stupire, non dovrei perché ormai come funziona la Sapienza un po' l'abbiamo capito, però ogni volta quando vedo queste manifestazioni anche abbastanza ridicole, perché gli occupanti dicono questo, dicono ai giornali, sono studenti di associazioni come Cambiare Rotta, Opposizione d'Alternativa Studentesca, Collettivi Universitari e vari altri, dichiarano ai giornali rimarremo qui, occupiamo la Sapienza da ieri, occupata mi pare, dal giorno prima, rimarremo qui e usciremo sabato, e certo uscirete sabato giusto in tempo per il fine settimana per andarvi a divertire. Molti complimenti ai nostri sempre coraggiosissimi militanti. Io per carità, occupassero quello che vogliono, però insomma c'è anche un limite. Tra l'altro se vogliamo occuparci di diritti, caro Francesco, prima di ridarti la parola per i tuoi preziosi consigli, visto che siamo tutti qui a discutere di diritti umani, di persone segregate e chiuse dentro, c'è una storia che mi ha colpito che riguarda i danni di un'altra chiusura che abbiamo subito, cioè i famigerati lockdown nei mesi passati, una storia che riguarda una giovane ragazza di Venezia, ce l'ha oggi il Corriere del Veneto, bravissima ballerina che era stata presa a 17 anni all'Opera di Roma, poteva diventare una grande star, fu notata addirittura a Vienna, cose incredibili. Durante arriva il lockdown, lei ovviamente la scuola chiude e deve tornare a casa, entra in uno stato di depressione e alla fine si è tolta la vita, l'hanno trovata in questi giorni morta, uccisa dei giardini della Biennale, questi erano dei diritti anche da difendere, diritti delle persone di cui nessuno si è occupato, quindi io tutte le volte che adesso sento parlare, sento fare grandi discorsi sui diritti umani, sull'attenzione, mi tornano in mente questi casi atroci, il disinteresse, la rabbia che c'è stata nei confronti di chi la pensava diversamente e voleva fare scelte differenti. Questa ragazza, il loro acconto è il Corriere del Veneto online, oggi ovviamente chi è fuori dal Veneto non può vederlo, però lo trova su internet, questa è una storia veramente straziante che riguarda poi tanti ragazzi che stanno ancora vivendo le conseguenze di quelle chiusure, di quelle reclusioni, quindi insomma secondo me quando parliamo di diritti dobbiamo almeno avere un po' l'onestà di allargare lo sguardo.